Non è io! Adesso ho un penno dietro! Piano! Voglio un penno! Va! Va piano! Adesso c'è una ruota da 0 a 100! Ma sei tu! Da 0 a 100! Non sei buono! Da 0 a 100! Ma fai parlare! Non è! Vediamo dove dire in aria allora! Chi? Tu? Chi? Io? Ma che sei matto? Ma hai caccato un'altra volta di andare alla coccia di fiori! Ma è già stato io! No è stato fracazzo! C'è moglietta lì in casa! Nooo! Scorda! Te faccio tagliare le palle! Dai e beh! Ma che dici? Dicisto! Non è! Te faccio tagliare le palle! Le palle no bella! Dopo mi ingrasso mi imbruttisco ancora! Ti prometto su precauzioni! No no sì! Precauzioni! La gatta dà vicina e incinta un'altra volta nel frattempo! Ma è essa che viene là e se struffa! Certo no! È un bello partito! Bravo! È che quella è straniera e persiana se vuole a casa! Sì se vuole a casa! Nel frattempo Vado a tagliare le palle e faccio un bello porta chiave per la motocicletta! Ma dopo le tue no? No no! E beh! Fatti la c***a tua! E ecco qua è essa! E poi la c***a tua!